Ancora, la sua attività all'esterno di un secco, abitando la parata, la sua attività forte che diceva, in questa attività di un livello e mantiene la sua posizione, siamo piano a piano, della sua attività attività a la trazione giusta, qui sta eseguendo la sua attività, la sua attività, la sua attività, si tratta proprio di cercare la sua attività, ma la sua attività pesante, molto attività che c'è. La nuova in campo è il suo ruolo, il suo ruolo, il suo ruolo, il suo ruolo, l'uomo, la sua attività. Ferrari, intanto, andiamo a vedere i tempi, c'è la considerazione da fare, c'è il 26 e 6-10 in Italia da parte, credo che il suo ruolo sia segnato. E' quello che vi dobbiamo concludere, questo è il suo ruolo. Sì, per concludere il ragionamento, la sua attività di grande qualità, di questa proposta, di sì, anche quando la economia, le qualità non riguardano le prosporrere le tecniche fondamentali, e ricordano il giusto il toe, il giusto det Grazie a tutti.